E' bello un commento su Sant'Ommaso, di chi ebbe e ancora oggi ha la fortuna di leggere la sua parola, non è un mio commento, troppo alto per la mia pochezza. Era un commento di poche parole, quando la teologia si faceva ancora in ginocchio. I teologi di oggi fanno teologia in ginocchio? Allora questa riflessione si rende necessaria, anzi vi dirò, vi confesserò che la riflessione che avevo programmato doveva essere unica, poi è venuta fuori una registrazione di quasi due ore, per cui ho ricominciato tutto da capo e l'ho divisa in due momenti successivi. Il primo è legato strettamente alla fine della vita di Tommaso, quando Tommaso ebbe a definire tutto ciò che ho scritto ormai per me è paglia. Viene riportata questa frase da Bartolomeo, da Capua, vi prego chi mi vuole seguire, tenga bene a mente questi personaggi, perché poi avremo a che fare anche con Guglielmo da Tocco, ci sono anche altri biografi minori e probabilmente certe biografie sono state perdute. ricordiamoci che questa autorità, questo personaggio, Bartolomeo da Capua non è da poco, era il braccio destro di Carlo D'Angio, era un giurista, un uomo politico, un dignitario, un diplomatico, un teologo, un personaggio di assoluta levatura. e sostanzialmente non dico che sia proprio contemporaneo a Tommaso, però voi capite, Tommaso nasce nel 1225, Bartolomeo da Capua nel 1248, quindi ebbe la possibilità di conoscere Tommaso. E Bartolomeo da Capua, 30 anni dopo la morte di Tommaso, prima ancora che la potesse avere Giovanni XXII aveva proposto a Benedetto XI di avviare quelle che vengono definite indagini per una canonizzazione dell'angelico, ma il Pontefice morì prima di poter portare a lato questa proposta. Ricordiamoci che anche il vicario domenicano della Sicilia, Roberto di San Valentino, aveva espresso l'interesse a redigere un profilo biografico di Tommaso. Quindi chi vi dice che per la prima volta ebbe a essere così individuato questo percorso da Guglielmo da Tocco, un percorso così addomesticato, non ascoltatelo, sono tutte quelle cattiverie che si susseguono. Abbiamo già visto tutte le cattiverie che furono dette in riferimento alla leggenda Meyer di Buonaventura, che avrebbe voluto presentare un Francesco e una sua biografia completamente differente dalla realtà. Leggiamo queste opere, leggiamo le parole di questi nostri santi e conosciamole per quelle che sono. Io tuttora sto leggendo questione dopo questione, articolo dopo articolo, commentandola la Suma Teologica di Tommaso. Se il Signore vi darà la forza, visto che non sono né intelligente, né capace, né costante come Tommaso, arriveremo alla fine. Altrimenti, insomma, un terzo, un quarto della Suma Teologica l'abbiamo vista, l'abbiamo commentata assieme e l'abbiamo conosciuta. Ora, quello che a me interessa qui, in questa prima riflessione, mettere in evidenza, sono le parole di Tommaso. Noi sappiamo che Tommaso ebbe a vivere una vita molto intensa, perché per me il miracolo di Tommaso, anche se le biografie ci dicono che dopo la sua morte i miracoli si sono susseguiti, numerosi, ma voi sapete anche che io non mi soffermo su quelli che vengono definiti e vengono considerati oggi miracoli, perché c'è questo scientismo, questo scientismo dirompente che vuole in qualche modo mettere alla prova la fede dei semplici, che vuole esasperare tutto. Questo atteggiamento dà fastidio perché nasce da chi ha proprio intenzione di portare anche gli altri nel vuoto assoluto, quel vuoto assoluto che vivono i primi e in cui vorrebbero coinvolgere tutto. Quindi mettiamo da parte quei miracoli che lo scientismo di oggi potrebbe contestare, come tutte fantasie, come leggende, tutto falso, tutti imbrogli, eccetera. Vediamo il vero miracolo, è l'opera di Tommaso. Pensate per un momento, vive nel 49 anni, poi i primi vent'anni chiaramente, se non di più, fu dedito allo studio, quindi cosa gli rimangono altri 25 anni? Impegnato presso i pontefici, impegnato nelle lezioni all'Università di Parigi, impegnato nelle scuole domenicane di teologia, impegnato in mille definizioni, eppure impegnato nella predicazione perché siamo presso i frati predicatori, eppure questo per me il miracolo scrive decine, decine, scrive milioni di parole, scrive un'opera immensa che per me è fuori da ogni elevatura umana. Lì c'è evidentemente una particolare illuminazione. E naturalmente chi non riesce a arrivare a queste altezze deve in qualche modo, e lo vedremo nella seconda riflessione, demolire, che poi non si riesce a demolire, perché la verità è come l'olio viene sempre a galla e soltanto gli ingenui e gli ignoranti possono abboccare a questo amo dell'ateismo, dell'agnosticismo contemporaneo. Allora abbiamo detto una vita intensa, vedremo più avanti o meglio nella seconda riflessione le grave difficoltà e i dispiaceri cui andò incontro a Tommaso. Qui consideriamo soltanto il fatto che parte da Napoli e ritorna a Napoli. Un modo particolare è ben insegnare all'Università di Parigi, ma lasciamo perdere tutte le altre tappe sulle quali se ci fermiamo non finiamo più. Una vita intensa perché tutto il giorno, tutta la giornata veniva trascorsa nello studio, nella dettatura, nell'insegnamento, nelle definizioni, lavorava fino a tardanotte, fino al momento in cui era ora di recitare il matutino e poi dopo la recita del matutino sembra che andasse a riposare per qualche momento. Mattina, celebrazione della messa, confessione tutte le mattine, notate i santi, il sacramento della confessione quanto era importante. Anche il nostro San Carlo Borromeo qui vicino ogni mattina si confessava. Naturalmente il furbastro può fare la solita battuta, era un gran peccatore. Siamo tutti grandi peccatori con la differenza però che Tommaso aveva bene nella sua consapevolezza. L'idea sapeva, capiva che il peccato non era solamente quello di ammazzare oppure quello di rubare. Ci sono tante piccole imperfezioni durante il corso della nostra giornata e queste imperfezioni devono essere un po' per volta superate. Ecco come abbiamo spiegato la lettura della Suma Teologica, si costruisce, si costituisce, si fonda un abito attraverso l'esercizio quotidiano e il fondamento dell'esercizio quotidiano era un sacramento importantissimo che come tutti i sacramenti danno una grazia, un sacramento che i cattolici oggi hanno in parte dimenticato, ma prima dei cattolici in genere, proprio i presbiteri della confessione, chiamata poi penitenza, chiamata poi conciliazione, chiamata in mille maniere, perché bisogna sempre rifarsi il belletto, non se ne parla quasi, quasi, quasi più. Allora confessione, celebrazione della Messa, poi serviva la Messa al suo confratello Reginaldo da Piperno e poi cominciava la giornata. Cominciava la giornata come tutte le altre nello studio, nella ricerca, nella dettatura. Eppure a un certo punto, il 6 dicembre del 1273, mettiamolo pure in evidenza, avviene qualcosa di straordinario. Viene questo fatto riferito da Bartolomeo da Capua, che probabilmente l'aveva appreso da Reginaldo da Piperno. Siamo, ho detto, 6 dicembre, è il giorno di San Nicola, a cui Tommaso era particolarmente devoto. Durante la celebrazione dell'Eucaristia non si sa cosa sia capitato. Il fatto è che le biografie parlano di un commotus, fu colpito da qualche cosa. Non è una novità nella storia della Chiesa. Pensate per un momento, nella storia della salvezza più che della Chiesa, perché a quel tempo la Chiesa di Cristo non c'era ancora, ma nella storia della salvezza, pensate a Zaccaria, Levitico, era su un altro altare, non era sull'altare del sacrificio di Cristo, era sull'altare dei Leviti, dei sacrifici che si elevavano a Yahweh e in quell'altare si annuncia la nascita del suo prossimo figliolo, che sarà poi Giovanni Battista. Non crede Zaccaria e per un momento basta quel momento che arriva la punizione e è costretto al mutismo fino alla nascita di Giovanni. E allora ecco il canto di Zaccaria, benedetto il Signore, che ha redento il suo popolo, quello che si legge ogni mattina nelle Lodi. Quindi non c'è da stupirsi che sull'altare di Cristo, su cui sono avvenuti tanti miracoli, per togliere e eliminare le nebbie agli increduli, fosse capitato qualche cosa anche a Tommaso. E le parole che vengono riportate sono queste, Reginaldo non posso perché tutto ciò che ho scritto è come paglia. Attenzione, io mi fermo qui. Perché vedremo nella riflessione che seguirà questa, che la seconda parte viene contestata. c'è chi aggiunge come paglia in confronto a ciò che mi è stato liberato e c'è chi aggiunge ancora l'unica cosa che io lo desidero e che Dio, dopo aver posto fine alla mia opera di scrittore, possa presto porre a termine anche la mia vita. Ma c'è chi sostiene, non so con quali documenti, che solo la prima parte sia effettivamente reale. Allora fermiamoci alla prima parte. dobbiamo sempre concedere tutto all'incredulo per arrivare a capire che la prima parte è sufficiente. Vedete, qui ho riportato il pensiero, a me dispiace dover essere sempre polemico, di un dominicano, io non conosco questo cognome, non saprei neanche come pronunciarlo, un dominicano statunitense, che, come al solito, nella prospettiva scientista e materialista di oggi, alla fin dei conti riduce questo momento a un momento di crollo fisico-psicofisico, ma aggiunge, per dare contentino anche a coloro che vogliono credere, può darsi che ci sia anche una componente mistica. C'è questa mirabile trasformazione, si parla di mira mutatio, però si insinua qui il pensiero, la possibilità che fosse semplicemente un colpo apopletico. Cos'è il colpo apopletico? È quello che noi chiamiamo oggi ictus. L'ictus è l'ostruzione di una vena oppure un'emorragia cerebrale. Può essere una cosa come può essere l'altra. Forse a quel tempo non si conoscevano le ragioni del colpo apopletico, però a me pare molto strano che una comunità di dominicani, dove c'erano anche le infermierie, quindi si curavano gli ammalati, non ci si fosse resi conto che in quel momento Tommaso non aveva avuto una visione, ma aveva avuto un crollo psicofisico, aveva avuto quella che noi definiamo, aveva avuto un ictus. Non si parla di malattie nelle biografie, si parla di un cambiamento. Ora, questo cambiamento, visto che nessuno almeno mette in dubbio le parole, le prime parole che ho letto, quello che ho scritto è solo paglia, a me pare molto strano che possa essere un ictus. Purtroppo io ho visto un susseguirsi di ictus con la mia povera mamma e un susseguirsi di ictus anche presso il mio carissimo, ma carissimo amico di una intelligenza eccezionale. Non si presentano così gli ictus. Gli ictus non ci danno delle intuizioni così profonde. Perché anche se vogliamo togliere tutto il resto, che potrebbe avere e potrebbe rivelare un significato ancora più profondo, ma anche perché tutto ciò che sta di straordinario, ripeto, viene sempre demandato alla leggenda, a cose inverosimili, perché non c'è fede più in questo mondo, già la prima parte che non viene contestata da nessuno è una rivelazione profonda. E da quel momento Tommaso si fa sempre più silenzioso. Sembra sempre rapito in un misticismo assoluto. E c'è chi vuole vedere in questo appunto le conseguenze di un colpo apopletico, dimenticandosi sostanzialmente che questi stati di silenzio e di rapimento erano sempre stati vissuti da Domenico al punto che si racconta che i confratelli durante i pasti gli portavano via gli alimenti dal piatto e Tommaso non se ne accorgeva. Vedete, proprio la grandezza dell'opera di Tommaso, che è la summa teologica, la chiamo così perché per me è la sintesi delle sintesi, con tutte le altre opere che è per accompagnarle a precederla, hanno in qualche modo addombrato l'aspetto mistico di Tommaso che è accompagnato anche con testimonianza di Buonaventura da fatti straordinari. Ma noi non parleremo di questi fatti straordinari perché oggi siamo abituati a non crederci, tutte fandonie, tutti imbrogli. Però questi silenzi da cui bisognava scuotere Tommaso perché ritornasse alla realtà sono silenzi che lo avrebbero accompagnare tutta la vita al punto che quando era ancora giovane, era ancora studente, era stato definito dei compagni il bue muto. E il suo maestro Alberto Magno, vi ricordate cosa disse quando questo bue comincerà a muggire, i suoi muggiti si sentiranno fino agli estremi della terra ed effettivamente fu così. Anche se oggi l'abbiamo messo in cantina o l'abbiamo messo in solaio, i primi di metterli in cantina e in solaio sono proprio i presbiteri e i preti. Quasi che ci si vergogni delle parole di Tommaso, della sua opera, quando la sua opera al tempo del concilio di Trento venne messa là sull'altare vicino alla Bibbia, vicino alle parole di Dio e alla sua rivelazione. Allora, detto questo, che per me è importante e viene ad essere una linea che si sviluppa, i silenzi della sua gioventù, il bue muto, questi momenti mestici di silenzi in cui Tommaso veniva rapito ed entrava in questi silenzi dove chissà dove mai finiva il suo pensiero e poi il finale che è il più determinante al punto che decide di non scrivere più perché tutto quello che ha scritto è paglia ci rivela una vita che è al di sopra della mente e una vita non soltanto razionale non è solo il filosofo e il teologo ma è il mistico. Perciò anche in questa prospettiva nelle varie vite che si sono susseguiti nei vari riferimenti non abbiamo mai trovato l'ombra almeno io non l'ho trovata se voi sapete qualcosa di questo genere fate riferimento ad una vita una biografia specifica di Tommaso e io sarò anche illuminato non si fa riferimento in questo giorno che abbiamo detto di San Nicola 6 dicembre 1273 non si fa riferimento ad una malattia si fa riferimento invece al fatto che a questo punto Tommaso dice adesso basta probabilmente mi devo preparare per qualche cos'altro basta scrivere c'è un incontro più importante è quell'incontro che sarà poi di tre mesi dopo infatti di malattia si parla nel momento in cui Tommaso viene chiamato pur essendo debole pur essendo stanco pur essendo provato al concilio di Lione era il concilio che il Papa aveva indetto per vedere se si poteva trovare un accordo con la Chiesa d'Oriente e il Papa vuole Tommaso vicino a sé anche se poi qualcuno dirà che Tommaso era in profumo di eresia sono tutte storie che poi vedremo di chiarire nella seconda riflessione e lungo la strada prima che finisce nel castello dei parenti dalla sorella poi avviene sembra una caduta dove picchia la testa e da quel momento veramente quell'incidente segna la fine della sua vita ora a me interessa soffermarmi su questo pensiero tutto quello che ho scritto è come paglia per me perché vedete molti presbiteri oggi con queste parole vogliono giustificare l'inutilità della teologia non dico tutti ma molti poi magari faranno eccezione e andranno a alimentarsi alle teologie dell'ultima ora senza alcun fondamento senza alcun riferimento con delle trovate che sono bislacche e rivoluzionari però la filosofia e la teologia che è stata sancita dal concilio di Trento e prima ancora del concilio di Trento da tutta una tradizione che risale al XIII o XIV secolo voi capite che questa teologia si vuole mettere da parte ormai sono pensieri medioevali ormai la filosofia di Aristotele è superata come se la teologia di Tommaso d'Aquino si riducesse alla filosofia di Aristotele ricordatevi sempre che Aristotele è in quel momento il filosofo lo scienziato e quindi con grande umiltà Tommaso d'Aquino fa riferimento al filosofo allo scienziato visto che lui non è scienziato perciò queste parole devono essere intese nella giusta prospettiva tutto ciò che ho scritto è come paglia per me vuol dire dunque che far della teologia riflettere sulla parola di Dio non serve a niente la paglia si deve porre per poi se si riesce superarla è un filo sottilissimo un filo sottilissimo che unisce un po' tutte le filosofie quelle che hanno un fondamento che hanno una struttura non le trovate no? perché vengono definiti filosofi anche quelli che la sparano una più grossa dell'altra non mi permetto di fare dei nomi altrimenti iniziano le polemiche Fichte insiste insiste su questo argomento io devo porre il non io per poterlo superare e in questo superamento arricchirmi pensate che tutta la vita è un porre per superare quando una volta all'asilo si insegnava ancora qualcosa di utile si insegnava a fare le aste e ma le aste poi venivano poste per poi arrivare alle vocali alle consonanti e poi alle parole e poi i pensierini e poi i primi riassuntini la storia così come veniva presentata all'elementare nel sussidiario veniva posta per poi essere superata in una prospettiva nuova le medie poi le superiori poi chi voleva affrontare degli studi più acuti la ha l'università tutto nella vita viene posto per essere superato noi sempre in riferimento a una scuola ancora funzionante non certamente a quella nostra contemporanea quindi ci preparavamo nelle scuole elementari ma poi le scuole elementari venivano superate per arrivare alle scuole medie e poi le scuole medie superate per arrivare alle superiori e poi le superiori superate per arrivare all'università e poi l'università superata per arrivare ad una professione e la professione per chi effettivamente voleva essere in linea con un certo senso di coerenza di precisione di moralità era un conoscere un superarsi sempre per migliorarsi tutta la vita è un por per superare ciò che si è posto ecco allora l'importanza di porre questa paglia che nella metafora è la teologia ma questa paglia è necessaria che sia posta per poter distinguere la paglia dallo sterco poi una volta che con attenzione si riescono a individuare i punti cardinali in una prospettiva intellettuale e razionale che è specifica di coloro che hanno una determinata cultura poi non pretendiamo questo dall'analfabeta non pretendiamo la teologia di Tommaso conosciuta da chi ha difficoltà a scrivere un pensierino però coloro che si definiscono professori laureati dottori ingegneri cristiani forse sarebbe opportuno per loro conoscere in modo adeguato la parola di Dio non filtrata attraverso le novelle teologie che non riconoscono neanche in quelle parole in quei versetti in quelle pagine la volontà di Dio la parola di Dio ecco dunque che cosa vuol dire paglia non vuol dire che riflettere su la rivelazione sia cosa inutile è una cosa essenziale per poter poi spiccare l'ultimo salto quello che ebbe a compiere Tommaso io non penso proprio di trovarmi a quel livello penso che pochi di noi siamo a quel livello la paglia di Tommaso è differente dalla mia paglia però sia la paglia di Tommaso che la mia serve per appiccare il fuoco il fuoco della carità l'abbiamo appena studiato questa carità che arriva da Dio come grazia che non si riduce al nostro amore generico che è una virtù teologale ma che per essere posseduta ha bisogno negli atti di essere preceduta dalla fede dalla speranza ma la fede non si raccoglie così per i campi come le primule in primavera sarebbe troppo comodo la fede si fonda su delle conoscenze su delle certezze sulla rivelazione ed è una ricerca continua anche perché oggi la fede è continuamente minata dallo scientismo e da quelle notizie false e menzognere che molti mettono in rete ma sapete fin quando i molti sono dei poveri ignorantelli poco importa anche se la parola degli ignorantelli fa presa tra coloro che sono i più ignorantelli dei primi il brutto è che molto spesso queste parole questi pensieri questi dubbi questo disfattismo viene messo in rete proprio da quelli che si definiscono professori professori di filosofia all'università professori di storia professori di lingua professori di matematica per cui il povero ignorante parlo di ignorante in senso buono come lo posso essere io su tanti argomenti su tante materie rimane sbacalito dice ma se lo dicono loro che sono dei professori probabilmente stanno comunicandomi la verità e allora la rivelazione la nascita del bambino Gesù è un po' un po' un insieme che sembra molto simile ad Halloween molto simile a Babbo Natale molto simile alla Befana ed ecco allora che tutto sprofonda nel nulla tutto sprofonda nel niente tutto si riduce quando si riduce a semplice tradizione e perché avviene questo? Perché non abbiamo usato la paglia e senza paglia non si brucia d'amore senza paglia non si riceve quella carità che è esclusivamente un dono sopranaturale ecco ci fermiamo qui con la prima riflessione sulla opera sulla conclusione della vita di Tommaso e su quello che ci dovrebbe insegnare poi se voi andate a cercare nella vita voi vedrete anche i fatti straordinari che non penso che siano tutte barzellette o favolucce da raccontare a bambini sottosviluppati andrete a vedere anche questi scritti che celebrano l'Eucalistia che oggi sono stati decapitati nella liturgia o dai singoli presbiteri o addirittura vengono completamente saltati sono delle opere io le ho commentate alcune di queste le ho commentate e si trovano nelle opere che io ho riportato liturgiche nella sezione del latino sono delle riflessioni meravigliose che hanno un'altezza teologica mistica d'amore e di carità che chi le salta è perché non le ha capite chi le salta è perché si trova ancora non nella paglia si trova ancora nello sterco perché non ha capito nulla né della rivelazione né dell'opera di Tommaso da qui di Tommaso di Tommaso di Tommaso di Tommaso